Cosa penso dell'italiano? Penso che l'italiano sia un paese molto bello, perché penso che vediamo un sacco di bellezza nel programma turisti italiani. Penso che gli italiani siano molto entusiasti e vivaci, e penso che ci siano molto cibi deliziosi come pizza, spaghetti o gelato, e sia famosa il vino. Non ho attrice italiana preferito, ma ho visto il fin italiano come dopo mezzanotte che parla di un triangolo amoroso. Il mio cantante italiano preferito è Elisa, perché mi piace lo stile delle sue canzoni. E la mia canzone preferita è Elisa, perché questa canzone è molto stimolante. Il mio personaggio storico italiano preferito è Michelangelo Bonarotti, perché la sua scultura è davvero incredibile. ho chiesto a mia amica. E lei pensa che l'Italia è un destinazione turistico e abbia un bel marino e la gente sia accoriente. e ha se l'evolta a mia amica. Sì. Sì. Sì.